Allora, Fulvio, dacci una prima impressione tu, facendo il video. No, sono proprio estasiato, cioè sono, non lo so, un'altra frontiera, una cosa di cui sviluppi è veramente, non si capisce, c'è tutto, è una figata, non c'è ancora mai il termine giusto. Io posso girare attorno, posso andare là e vedere il mio disegno da un'altra parte, sono completamente circondato dai miei disegni, dentro uno spazio che è un orizzonte di colline, sono da un'altra parte, sono da un'altra parte. E' bene, no, 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 assolutamente sensibilità straordinaria. Ciao ragazzi, ci vediamo, ci vediamo in Matrix. Ok, perché poi impari. Spari a poco a poco a muoverti all'interno, a riprendere il piano della forma che hai appena fatto, no? Ok. Comincio a capirlo bene questo ragazzetto che mi farà uscire fuori di canagno. Signori, se siete ancora collegati, il mondo non sarà più lo stesso. E' bello che mi abbasso. E c'è... Nooo... Nooo... Fire! Nooo... Nooo... Nooo...